Un momento particolare in MV che per me è stato piacevole quando abbiamo consegnato per la prima volta a Lewis Hamilton la moto da lui ideata, ci siamo recati a Monte Carlo e da lì l'abbiamo coperta sotto un telo, lui si è presentato, quando lui stesso l'ha scoperta è rimasto stupito dalla bellezza di questa moto e in effetti vederlo così, contento, continuava a toccarla, a guardarla si abbassava, si ginocchiava a guardare il motore, l'ammortizzatore, lì è stato veramente un bel episodio